Una campagna di sensibilizzazione e distribuzione gratuita di prodotti per combattere la pediculosi. E' questa l'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale di Ponte Cagnano-Faiano. Al fine di scongiurare il problema, che è di facile propagazione fra i banchi di scuola, è stata predisposta la consegna di campioni di lozioni e shampoo anti-pidocchi nei locali della farmacia comunale, sita in Sant'Antonio dal giorno 1 al giorno 5 ottobre 2018. Un'opportunità a costo zero di cui i genitori possono usufruire per avviare specifici trattamenti e richiedere più dettagliate delucidazioni.